Questa edizione, riservato alla categoria allievi B, fra Olimpia e Settignanese, arbitra della gara è il signor Leoni di Firenze. Diamo lettura delle formazioni delle squadre. Olimpia, allenatore signor Rontani, con il numero 1 Valoriani, 2 Nardini, 3 Baghecini, 4 Meucci, 5 Peragnoli, 6 Cicalini, 7 Zagli, 8 Salsi, 9 Espinosa, 10 Rumini, 11 Messina. A disposizione con il numero 12 Salucci, 13 Vecchi, 14 Piazza, 15 Pucci, 16 Sacchi. Settignanese, allenatore signor Donati, con il numero 1 Marteluzzi, 2 Borghini, 3 Baldini, 4 Ricci, 5 Schiavoni, 6 Viciani, 7 Chiappe, 8 Borezza, 9 Massa, 10 Spinello, 11 Vannini. A disposizione con il numero 12 Guerrieri, 13 Marcacci, 14 Pini, arbitra l'incontro il signor Leoni di Firenze. Buon divertimento. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti